Sì, è stata una bellissima esperienza, è stata pensata da me da diverso tempo, infatti ti lo accennai in passato e alla fine sono riuscito a convincerlo, è stata, ripeto, un'esperienza forte, bella, faticosa, ma anche divertente e quindi alla fine siamo rimasti molto contenti, siamo riusciti a portare a termine questa piccola impresa ma ero convinto che ce l'avremmo fatta, infatti è andato tutto bene, senza nessun intoppo, a parte il caldo di Firenze di 36 gradi però alla fine siamo molto contenti per questa bellissima esperienza. Siamo partiti addirittura a mezzanotte e 7 minuti perché siamo appassionati anche di James Bond quindi nel 007 tornava la partenza e siamo tornati alle 8 di sera quindi diciamo che è stato veramente complicato gestire, soprattutto una cosa di testa, ecco è stato gestire lo sforzo fisico perché non è stata una cosa facile. Voglio precisare una cosa che comunque i momenti di crisi li abbiamo avuti, sia io che lui io soprattutto all'inizio perché comunque girare di notte, quindi alle 1, alle 2, alle 3 di notte comunque non è facile, non si è abituati quindi... Avevate la luce, sì? Sì, sì, eravamo super attrezzati, però comunque fisicamente non ho mai girato in bicicletta di notte quindi mentalmente ho avuto un momento di crisi verso le 3, alle 4, infatti non vedevo l'ora che arrivasse l'alba. Prossima 3,8 sfida, sto cercando di convincerlo, speriamo, spero, ho ancora una ventina, una quindicina di giorni di tempo per convincerlo e voglio fare sempre partendo da Pesaro in varie tappe, in 4 giorni, fare il Gran Sasso quindi passando anche per Amatrice, l'Aquila, Napoli, Roma e poi tornare a Pesaro quindi 4 giorni di 1100 km vengono più o meno.